E adesso vediamo l'appello lanciato attraverso il Tg2 dal ministro degli esteri Franco Frattini e dal ministro delle pari opportunità Mara Carfagna per salvare Sakhinè. Per questa giovane donna condannata a morte per lapidazione noi chiediamo con forza alle autorità iraniane un atto di clemenza e quindi il rispetto fondamentale del diritto alla vita di questa ragazza imprigionata. Non possiamo accettare che una giovane donna venga condannata a morte per una visione che non rispetta i diritti umani fondamentali. Per questa ragione esporremo sulla facciata di un palazzo del governo il volto di Sakhinè e la speranza che le sia risparmiata la vita e questo sarà quindi il simbolo della nostra battaglia.